Salve e benvenuti in questo nostro nuovo video, oggi presenti di un altro prodotto realizzato in casa McTab, ovvero supporti in acciogli inox per ceppi e ceppi in polipropilene per alimenti. Partiamo prima dei nostri supporti per ceppo, realizzati interamente in acciaio inox AESI 304 con tubolare in acciaio da 40x40 con 4 piedini regolabili in altezza. La base superone invece è realizzata con una lamiera in acciaio con un'unghietta laterale in modo da incastrare il ceppo nel suo interno. La struttura è interamente saldata, quindi non parliamo di struttura né bullonata né fissata a conviti. Possiamo realizzarli in varie dimensioni in base alle vostre necessità. Colocabili in vari settori trovano impiego in industria alimentare, faccellerie, polerie, gastronomie, pescherie, ortofrutticola e aziende agroalimentari. Ora invece passiamo al ceppo in polipropilene. Il ceppo in polipropilene è possibile realizzarlo in vari colori, dal bordeaux al bianco, al verde e al blu, in base alle vostre necessità. Anche il ceppo è possibile realizzarlo in varie dimensioni e in varie spessori. In questo caso abbiamo utilizzato un ceppo di spessore da 10 cm. Per info e preventivo contattate la seguente mail commerciale, www.chioccioletetap.com oppure al seguente numero 081-831-0744 oppure raggiungendo la nostra sede a Prattamaggioni, via Pasquale e Miello, 134 in provincia di Napoli. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al nostro canale dove attivando la campanellina riceverete tutte le nostre notizie e noi vi attendiamo nel centro dove si incontra l'Italia e che lavora che produce. Al prossimo video, ciao! Ciao!